A nove giorni dalla prima scossa di terremoto continuano le verifiche dei vigili del fuoco e, di pari passo, emergono edifici dichiarati inagibili o da sgomberare in via precauzionale. È il caso di una palazzina di Pesaro in via del Maino, piccola strada ma d'alta densità abitativa collocata in zona centromare fra ferrovia e torrente genica. Qui, al Civico 21, le verifiche approfondite dei vigili del fuoco hanno portato oggi ad un'ordinanza di sgombero precauzionale dell'edificio condominiale che ospita ben nove famiglie. Un'evacuazione che mette alla porta un cospicuo numero di persone, analogo a quello effettuato domenica da Via della Robbia, dove si stanno velocizzando le operazioni di rimozione della ciminiera pericolante per consentire il rientro in casa delle famiglie attualmente ospitate in albergo. In via del Maino 21 i residenti hanno fatto segnalazione all'amministratore di condominio delle crepe rilevate dopo le scosse di terremoto ed è scattata la verifica approfondita dei vigili del fuoco. Da qui l'evacuazione con la Polizia Municipale oggi intenta liberare l'area di sosta da transennare e anche l'ambulanza allertata per accompagnare fuori di casa novantenni presenti nella struttura. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno rilevato delle crepe importanti, strutturali, e quindi dopo aver chiamato anche l'ingegnere ci hanno ordinato senza attesa di dover evacuare. Siamo nove famiglie dove ci sono anche due persone anziane di 93 e 94 anni e tutti stiamo trovando un'altra sistemazione. In un primo momento siccome avevamo sentito che le persone in Via Luca della Robbia erano state portate in un albergo pensavamo all'albergo fosse la soluzione ideale e invece hanno proposto delle suore in via strada delle Marche. Adesso io personalmente mi appoggerò da mia mamma nella mia famiglia, però ci sono tre o quattro famiglie che si stanno dirigendo dalle suore. Momenti difficili per i residenti che da un giorno all'altro si trovano costretti a dover scegliere quali cose prendere e quali lasciare nell'incertezza di quando rientrare. Decisioni da prendere in fretta. La prima cosa ho pensato ai libri dei ragazzi e poi agli sport perché loro comunque devono continuare la loro vita, qualche maglione, le divise, adesso comunque i Vigili del Fuoco ci hanno detto che tra sabato e domenica o probabilmente anche domattina ci apriranno, adesso mettono i sigilli, hanno tolto gas e luce, poi ci riapriranno per la possibilità di prelevare cose più ingombranti, anche perché c'è chi ha i gatti, c'è chi ha gli animali e quindi dobbiamo correre. Rispetto al caso di Via della Robbia, in Via del Maino non sembra necessario il ricorso a struttura alberghiere per ospitare le famiglie sfollate. La maggior parte degli evacuati sta trovando accoglienza da amici e parenti, mentre due nuclei familiari andranno appunto in strada delle Marche in una struttura gestita da Città della Gioia. Ora si attendono verifiche ulteriori con la perizia tecnica che valuterà l'entità della problematica di stabilità. Va da sé che i residenti incrocino le dita sul fatto che si sia trattato solo di un eccesso di precauzione.